Giugno 1987, il Cesena di Bruno Bolchi conquista la promozione in Serie A battendo agli spareggi Lecce di Carlo Mazzone. Giugno 1989, Lecce e Cesena di nuovo di fronte per la Serie A, ma stavolta c'è da salvarsi. I pugliesi sono più tranquilli, se i romani li perdono invece sono guai. Dica la verità Mazzone, le sarebbe piaciuto vendicarsi? No, questo anzi è stato un pochino sotto il profilo psicologico l'atteggiamento che abbiamo tenuto durante la settimana di dimenticare tutto, di far finta che giocavamo tutti i minori col Cesena. E in effetti siamo andati in campo, non è che sia stato così, dell'agonismo eccessivo, c'è stata aggressività, leale, corretta, un buon ritmo, ma poche geometrie, poco gioco, abbiamo prodotto poco, troppo poco per vincere. Da una delle poche scorrettezze della partita al ventesimo del secondo tempo nasce la grande occasione del Lecce per festeggiare in anticipo la salvezza. Punizione dal solito Baroni e guizzo di Moriero sulla ribattuta di Rossi, ma è solo Paolo. Poco dopo un'altra gioia per i romagnoli arriva da quella radiolina che anche il direttore generale del Lecce, Cataldo, segue con molta attenzione. Il Bologna ha segnato il gol vincente sul Pescara per il Cesena, ora la salvezza è più vicina. Lei ci crede? Ma ancora no, io aspetto di fare ancora due punti domenica prossima col Como in casa e poi dopo penso che siamo abbastanza vicini alla meta. Chiedere a un romagnolo come Piracini di dire grazie al Bologna per aver battuto il Pescara forse è il massimo della cattiveria, ma io te lo chiedo lo stesso. Beh sì, in effetti oggi speravamo che il Bologna vincesse, abbiamo fatto un po' di tifo sicuramente per il Bologna. E chiaramente battendo il Pescara forse ci dà una mano per arrivare alla salvezza, anche se forse tutto sommato può darsi che ci riusciamo anche con le nostre mani. Grazie Bologna e grazie Paolo. Beh sì, abbiamo avuto un attimino di fortuna lì, però mi sembra che Lecce, ho tolto questo tiro così, questa deviazione, non abbia fatto molto per meritarsi la vittoria. Tutto sommato mi sembra che noi ci siamo difesi abbastanza bene, loro hanno buttato sempre questa palla in aria da lontano. Non mi sembra che sia molto per meritarsi una vittoria. Alla luce dei risultati, giochi fatti secondo lei Mazzone? Questa è una domanda che mi viene posta da circa tre mesi, ringraziando il grosso impegno dei ragazzi, in 16-17 gare abbiamo perduto solamente due volte e siamo a pochi punti ancora dalla quart'ultima. Io direi che è ancora da giocare, il Torino ha vinto, il Torino può ripetere l'impresa domenica in casa e poi viene qui a giocare una partita difficile per loro e per noi. Adesso noi se vogliamo essere salvi o parte della salvezza dobbiamo andare a Bergamo e cercare di fare un risultato positivo e non sarà facile, conosciamo la forza dell'Atalanta.